Lavoro in corso e progetti avviati per i grandi poli dello sport riminese. Se a gennaio dell'anno prossimo ci sarà il bando di gara per la nuova copertura dello stadio di calcio Romeo Neri, in primavera sarà la volta della nuova piscina comunale con la posa della prima pietra. Nel primo caso procede il pieno di riqualificazione della vecchia struttura. Dopo l'installazione del manto erboso omologato per la Lega Pro è in fase di progettazione l'intervento che porterà alla copertura della tribuna, una struttura metallica che ospiterà un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Entro la fine dell'anno, assicurando al Comune, sarà approvato il progetto e i lavori saranno eseguiti l'estate prossima durante la pausa del campionato. Il PNRR permetterà di finanziare parte dei restanti interventi, come la nuova piscina di Viserba, il cui progetto esecutivo risulta in fase di completamento. Entro fine marzo 2023 è prevista la giudicazione dei lavori. Degli 8 milioni di euro, 2,1 arrivano dal Recovery Fund. E saranno giudicati entro la fine di marzo anche i lavori per la riqualificazione funzionale ed energetica dell'RDS Stadium, con l'obiettivo di renderlo adatto ad ospitare il Centro Italiano di Danza Sportiva. In parallelo si provvederà al completamento della Cittadella dello Sport. Area con sette campi da calcio mai ultimata e che da anni giace nel degrado.